Ciao a tutti, Dating Online, vantaggi e svantaggi. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, una delle, diciamo, modalità per conoscere persone oggi sempre più frequente e l'approccio online, il dating online, e troviamo una grande varietà, una grande plettora di possibilità dai portali più conosciuti, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, insomma tutti i portali principali. Poi ve ne sono tutta un'altra plettora di app, ormai, di app di incontri dove, insomma, si possono conoscere persone abbastanza facilmente. Allora, quali sono i pro e i contro? Beh, il pro è che, diciamo, si può entrare in contatto con tantissime persone, però ci sono tutti i contro e i contro sono quelli che, intanto, ovviamente non è detto che queste persone siano vicino casa, per cui ci può essere una difficoltà che è la distanza. La distanza può essere una prima difficoltà. Poi non è detto che non ci possano essere altre difficoltà, come ad esempio il fatto di non sapere esattamente chi c'è dall'altra parte. E quindi non sapere esattamente chi c'è dall'altra parte vuol dire che spesso in questi siti di incontri anche soltanto le fotografie sono un po' modificate, un po' trasformate, per cui vedi persone che sono molto diverse poi da quello che sono in realtà, sia da un punto di vista caratteriale, sia da un punto di vista fisico. Ci sono persone che non hanno poi interesse a fare incontri, che quindi di fatto stanno lì per come passa tempo. Loro passano il tempo, ma gli altri possono perdere il tempo, chi fosse veramente interessato. Per cui poi ci sono appunto persone che mi lantano magari delle situazioni e poi ne hanno altre. Insomma, è tutto un mondo dove, come dire, si può facilmente prendere degli abbagli. Insomma, per cui la cosa migliore in questi casi è fare selezione, cioè non perdere tanto tempo e cercare di conoscere la persona rapidamente per un caffè, in un posto, diciamo, all'aperto, centrale, di giorno, diurno, per conoscerla poi direttamente, vedere un attimino se c'è una possibilità di frequentazione o meno. Ma passare mesi e mesi in chat rischia di produrre poi veramente delle cose che non funzionano. Io ho visto persone che si erano praticamente fidanzate online, conosciute, ma proprio per mesi e mesi, poi per la distanza. Cioè passare mesi e mesi, ore e ore, videochiamate, cose per... Ma ore e ore quotidiane. E poi, diciamo, sembrava una roba amore, proprio da fidanzamento, matrimonio, quando si sono conosciuti, tempo due o tre giorni, non si sopportavano, è tutto andato a rotoli a catafascio, veramente nel giro di due o tre giorni. Quindi in questi casi si sono persi dei mesi e basta. Quindi anche il dating online ha le sue magagne, insomma. Va usato intelligentemente, quindi come tutto dipende molto dall'intelligenza della persona. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!